Non vi drogate, non vi drogate, non vi drogate, non vi drogate. Questo video contiene immagini esplicite. Non vi drogate, non vi drogate, non vi drogate. L'artista e il regista del video non intendono mitizzare l'uso di sostanze. Questa è cronaca. Il fine non è essere imitati. Se ne sconsiglia la visione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.